Risotto al pene Molto semplice nella sua tradizione Ma se non trovi i classi giusti Rischi di sbobrare Incrocio le dita Di Guadaluca Io sono stato in Giappone e ho visto Uno con Giappone che si scappava Mi la mano a mano Magari non in Italia Cac All'estero A Parigi A Parigi? A Parigi A Parigi? Si ma scusa non puoi Non puoi ma scusare Col cucchiaio Io ho letto Maio Sette giorni in Giappone Pretendi di venire a Marse Cioè di fare un piatto Giappone Sai cosa ti fanno fare in Giappone Quando non hai più Neppone Pone Ti fanno colpone Pone Pone